Mi chiamo Ferdinando Guicciardini e sono il titolare dell'azienda Belvedere Campoli. La cosa più banale di tutte, ma che è la più vera, è che il vino è praticamente un collante di relazioni, di amicizie, di rapporti umani. La sfida più grande è quella di capire il territorio e capirne le potenzialità. La mia più grande soddisfazione è di essere arrivato a un'età abbastanza venerabile della mia vita, avendo ancora entusiasmo e interesse. La sfida mia maggiore è quella di interpretare il territorio e di poterne tirar fuori il meglio. In tempi relativamente recenti abbiamo con mia moglie, credo che siamo i migliori conoscitori del Chianti Classico, l'abbiamo girato tutto.